Musica Ben trovati per la nostra edicola, la rassegna stampa con i principali quotidiani nazionali e locali. Iniziamo dal Corriere della Sera. Il titolo d'apertura, IVA, multe, mance, cosa cambia? Valditara via il reddito di cittadinanza a chi non ha finito gli studi. Conte, una guerra agli ultimi. La manovra esce, la bozza della legge, aumentano le sigarette, debutta il Fondo per la Sovranità Alimentare. Intervista a Tajani. Noi inascoltati, in quelle misure, Forza Italia c'è. I nuovi calcoli, le pensioni e l'inflazione, ecco gli aumenti. Il corsivo di Paolo Mieli, le scelte a sinistra. Di spalla, invece, vediamo la cronaca con la guerra in Ucraina. L'Europa ha la forza per imporsi sui regimi. Putin ci sottovaluta la guerra. Il ministro tedesco Abeck parla. Vediamo nella fotografia una donna ferita dalle bombe lanciate ieri su Kiev. Ancora cronaca, a Roma, nel telefono del killer, i video degli omicidi delle donne cinesi, identificate le vittime. Filmò Renzi e lo 007, indagata. La docente si difende, non sono una spia. Milano, il caso DHL, i 1500 assunti, grazie ai PM. Centro pagina, una fotonotizia di sport riguardante il mondiale in Qatar. Le mani sulla bocca, la protesta dei tedeschi. Vediamo la formazione della Germania con questa forma di protesta. Uno sberleffo alla FIFA, criticato in Germania. E la responsabile dell'interno di Berlino indossa la fascia proibita. Taglio basso, la rubrica Il caffè di Massimo Gremellini, dal Vangelo, secondo Malan. Il riferimento è al senatore Lucio Malan. Sottotestata, prima di cambiare quotidiano, vediamo Saviano annulla gli eventi. Troppo odio contro di me, dopo le querelle dei politici. Passiamo alla Repubblica. Il titolo d'apertura è sulla manovra, i dimenticati del reddito. Il prossimo settembre, 400 mila famiglie saranno private del reddito di cittadinanza, ma nessuno sa cosa accadrà dopo, scrive Repubblica. Gli sgravi non funzionano nel 2021, solo 137 assunti. Valditara finiscano la scuola o via il sussidio. Meloni teme sgambetti da Forza Italia e incontra Calenda. Le interviste Bertelli, Prada, alzare gli stipendi o il disagio esploderà. Picchetto Fratin, così il price cap sul gas aiuta gli speculatori. Il commento, la demagogia non crea lavoro. Riferimento è al reddito di cittadinanza. E ancora la proposta, togliamo il voto agli evasori. Di spalla, addio a Gucci, l'uomo della svolta lascia la Maison. E l'ultima parola è delle donne di Natalia Aspesi. Sottotestata invece vediamo il riferimento alla guerra in Ucraina. Pioggia di missili. Putin spegne l'Ucraina. Blackout in tutto il paese. Parlamento UE, Russia terrorista e gli hacker attaccano. Passiamo al Corriere del Mezzogiorno. Alla Senità pugliese 200 milioni in più. Ma si attende oggi il via libera dai governatori. Con le risorse aggiuntive, bilancio e insicurezza. I criteri di riparto non cambiano. Un piccolo spiraglio si apre per il 2023. Giudizio positivo dal Ministero sui conti. Primo stop ad un progetto targato PNRR Bari Sud. Sospeso il raddoppio dei binari. Assegno il ricorso di ambientalisti, proprietari di terreni e sindaco di Noicattaro. Bloccata l'autorizzazione paesaggistica. Fragilità dei ragazzi. Chattare fuori dal coro. Ancora il dibattito del Corriere. Se il centralismo nuoce alla scuola. E c'erano una volta i piani urbanistici. Lotta alla mafia. Beni sottratti ai clan. In 50 comuni elenchi dimenticati. Bandi e assegnazioni mancati. Il retroscena De Caro in regione non piace a Conte. Lo scandalo per Messi su 10 residenti. 7 hanno la ZTL. Bufera a Gallipoli. A centropagina invece vediamo il calcio scartato. Il San Nicola Italia-Inghilterra si giocherà a Napoli. La partita valevole per le qualificazioni a Euro 2024. Suicida a 13 anni. La verità dalle amiche. Carabinieri al lavoro per ricostruire la videochiamata e raccogliere testimonianze. Caso Petrone. La procura ora chiede di archiviare l'inchiesta bis. L'assassinio del 1977. Vediamo all'interno, in primo piano, beni confiscati ai clan. Questa è l'inchiesta del Corriere. Il silenzio dei comuni. In Puglia la maggior parte degli enti locali non adempia ad un obbligo di legge. 50 su 97 non pubblicano l'elenco di quelli destinati. Ma Bari e Andrea si attengono alle norme. In arrivo a 200 milioni in più per la sanità della Puglia. Quasi 8 miliardi dallo Stato. La ripartizione del Fondo Nazionale questa mattina la firma. Vediamo una foto dell'assessore alla sanità della Regione Puglia, Rocco Palese. Regione. Emiliano spinge De Caro. Conte non gradisce. Malumore 5 Stelle. Il mal di pancia dell'ex premier per l'endorsement a favore del sindaco. La Repubblica, edizione di Bari, omicidio collettivo. L'indagine chiesta all'archiviazione del fascicolo bis per l'uccisione di Benedetto Petrone. L'intervista alla sorella Porzia andavano puniti prima, ma oggi non ha più senso. Il caso, così Emiliano salva Sannicandro Cassano, invece salta. Il governatore proroga di due anni il contratto del suo fedelissimo DG dell'Asset, mentre il capo dell'ARPAL è stato tagliato. La sentenza nodo ferroviario, il TAR ferma l'autorizzazione per Bari Sud. L'opera, il bosco verticale di Boeri, sette palazzi con 140 appartamenti. Ancora il dossier, nomisma, rallenta in città il mercato degli immobili, omi, no, cresce. Vediamo all'interno, in primo piano su Repubblica Bari, Emiliano conferma Sannicandro, Amati, solito esercizio di potere. Il governatore punta per altri due anni sul suo fedelissimo, confermandolo direttore generale dell'Asset e invertendo la rotta che aveva portato all'esclusione di Cassano da ARPAL con la nomina del CDA. I 5 Stelle, vogliamo chiarimenti. Erano in dieci per uccidere Benni, un delitto collettivo e squadrista, il virgolettato. La procura ha chiesto l'archiviazione per l'inchiesta bis sull'omicidio Petrone, ammazzato dai fascisti 45 anni fa, dopo aver identificato i nove che spalleggiarono l'unico condannato, ma gli eventuali reati sono ormai prescritti. L'intervista alla sorella Porzia Petrone andavano puniti prima, oggi non ha prescritto. Ci spostiamo sul Gazzetta del Mezzogiorno. Il coraggio e donna domani, la giornata sulla violenza di genere, divario, sanità, lavoro, diritti, forum alla Gazzetta. Ma la Puglia è maschilista? Questa è la domanda che pone la Gazzetta del Mezzogiorno. Il mito greco già insegnava libertà e parità. La cronaca, Foggia, chiede aiuto contro il crimine. Il procuratore Vaccaro, c'è speranza. Omicidio Petrone, fuazione collettiva, Bari 1977, per la procura tutto prescritto. Caso Sumauro, indagata la suocera, fascicolo aperto per malversazione. L'analisi, l'autonomia che minaccia le imprese. E ancora Omar, sì e Bari, quasi amici con Il Crudo. Volto nuoto, in questi giorni il popolare attore francese sta girando un film a Matera. Ancora la Gazzetta del Mezzogiorno, l'edizione di Bari. Io non sono un assassino. La difesa del barista, interrogato dal GIP, mi dispiace. Parliamo del delitto di Bitritto nel carcere di Bari. Il 31enne Francesco Assunto ha risposto alle domande sulla morte del 27enne Giovanni Palazzotto. Sequestrato B&B a luci rosse, giro di escort scoperto a gioia. La struttura nel centro storico gestita da una coppia di insospettabili, il marito, ai domiciliari. Edizione della Basilicata, della Gazzetta Materano e Tito scoppia la febbre da investimento. Contratti di sviluppo, boom di richieste e fondi regionali esauriti dopo sette giorni. Una Idrogen Valley a San Nicola di Melfi. Energia, Regione, Eni e Stellantis, insieme per concretizzare il progetto del PNRR. Edicola del Sud, bullizzato al liceo. Ecco il mio calvario, il dramma. Uno studente chiede aiuto in una lettere. Ogni insulto è un pugno allo stomaco. Ora basta. Sempre l'edicola del Sud, nella edizione della Basilicata, apre invece con la Casa della Criminalità. Passa in mano ai giovani. L'annuncio è stato pubblicato all'avviso per la gestione dell'immobile, confiscato alla malavita organizzata. Quotidiano di Bari. La rinuncia di Emiliano al terzo mandato fa salire la tensione con i civici. Paradossale che ad organizzare il contrappeso al PD nella maggioranza regionale sia Giovanni Procacci, dirigente dello stesso partito, scrive Il Quotidiano. Chiudiamo con il sole 24 ore. PNRR, opere a rischio per 40 miliardi, investimenti, infrastrutture ferroviarie, TLC e progetti affidati ai comuni, i settori in ritardo maggiore. Corsa contro il tempo di RFI, 4,1 miliardi aggiudicati, 5,1 in corso, 6,8 da assegnare. Bene, finisce qui la nostra rassegna. Grazie per essere stati con noi. Buona giornata.